Niente più gioco d'azzardo nel comune di Capolona. Con l'adozione del nuovo regolamento urbanistico, il Consiglio Comunale di Capolona, il primo in provincia di Arezzo, ha recepito la legge regionale e introdotto un'apposita norma che vieta nel centro urbano le sale da gioco e d'azzardo. Il fenomeno del gioco d'azzardo, sottolinea il sindaco Alberto Ciolfi, si presenta oggi come uno dei più allarmanti dal punto di vista della pericolosità sociale, tanto che ha subito un'espansione senza precedenti negli ultimi anni in Italia, sia per quanto riguarda il volume delle somme che movimenta, sia per il numero delle persone che coinvolge. Anche dal punto di vista sanitario, la ludopatia, dipendenza patologica dal gioco d'azzardo, ha raggiunto in Italia proporzioni allarmanti. Sono particolarmente soddisfatto, conclude Ciolfi, della tempestività con cui il Consiglio Comunale ha accolto e fatta propria la legge regionale toscana, la 57 del 18 ottobre 2013, titolata Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia. Un esempio che adesso si spera gli altri comuni possano seguire.